Grazie, Presidente. Sono ormai trascorsi nove anni da quella maledetta sera del 4 marzo 2005, quando un'auto dei servizi segreti italiani, con a bordo la giornalista Giuliana Sgrena, l'autista Andrea Carpani e Nicola Caripari, venne fatto oggetto di ripetuti colpi d'arma da fuoco, sparati da soldati americani, appostati lungo la Route Irish, strada di collegamento all'aeroporto di Baghdad. La giornalista del manifesto era stata appena rilasciata dai rapitori, uomini presumibilmente legati alla resistenza irachena, più che al Qaeda. A conclusione di una lunga trattativa condotta da Caripari, il cui esito positivo era stato comunicato via telefono sia al governo di Roma che all'ambasciata italiana. Caripari muore da eroe, colpito mortalmente alla testa, facendo da scudo con il suo corpo la giornalista. Anche la Sgrena rimane frita, così come l'autista Carpani. A sparare con un mitragliatore è Mario Lonzano, soldato degli Stati Uniti, anche se con grande probabilità non è stato solo a sparare. È inquietante non avere ancora risposte chiare su perché un'auto del sismi, che avrebbe dovuto godere di una particolare protezione da parte delle forze militari alleate, possa essere stato oggetto di una vera e propria imboscata. L'opera di Caripari, che negoziava con la resistenza armata, il rilascio dei nostri connazionali, non era gradita agli Stati Uniti, ed in particolare all'ambasciatore Negroponte, noto per la guerra sporca fatta negli anni Ottanta, in Centroamerica, e ambasciatore dell'ONU quando Colin Powell, al Consiglio di Sicurezza, mostrò la famosa fiala che avrebbe dovuto essere la prova dell'esistenza in Iraq di armi di sterminio di massa. Rivelatasi, come tutti noto, una palese menzogna. Le due inchieste, quella italiana e quella statunitense, c'è da sottolineare, sono in molte parti in contrasto. L'impotenza della magistratura italiana, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Lonzano, ripropone anche oggi il problema dei trattati, che assicurano la non punibilità dei crimini che vengono commessi dai soldati USA, sia nelle zone in cui è nato in conflitto, come nel caso dell'Iraq, ma anche, va ricordato, in pieno territorio italiano, come dimostrano i fatti del Cermis. Nel dare il nostro omaggio a Nicola Caripari e alla sua famiglia, non possiamo non ricordare come l'avventura militare italiana in Iraq venne fatta indispresso dall'articolo 11 della Costituzione e senza alcuna copertura dell'ONU e del diritto internazionale. Quella invasione militare ha prodotto decine di migliaia di morti e ha reso quel Paese il mondo più insicuro ingiusto. Noi consideriamo Caripari un eroe del nostro tempo e la sua drammatica vicenda non può e non deve finire nell'oblio. Va ricordata al mondo, ma anche a noi stessi, perché è simbolo di generosità e sacrificio, valori che nei difficili teatri di guerra ci riportano a una dimensione più umana. Grazie. Grazie.